presentiamo la seconda serie Diego Scognamiglio alla uno Nicola Vassena alla due Matteo Guglielmo alla tre Marco Menta in quattro Shosse Lancerini in cinque David Gadiaga alla sei Nikita Pissarenco alla sette Francesco Gabellini alla otto Stop! Mike! Come on! Matteo Barotti cinquantanove e ventuno va al comando della classifica provvisoria in attesa della serie numero due